inizia questa puntata io lo volevo evitare che è un pochino tristino che manca questa sigla ci manca questa sigla però insomma eccoci qui tornati a Dance Sustainable con questa nuova inquadratura questo nuovo setup che evidenzia la mia panza questo setup quello che prendeva quando da 50enne di oggi tu sei molto elegante l'esimio professor Bottecini ci è raggiunto dall'università di di San Bebile dell'università della strada di San Bebile dell'università della strada di Monte Napoleone di Monte Napoleone oggi in pausa in ufficio sono andato poi a prendere un caffè da Marchesi da Marchesi? no interessante 6 euro? no 1 euro e 30 1 euro e 30 devi sapere che alle 17 servono i bomboloni caldi servono i bomboloni caldi? sì questa cosa mi fa morire da ridere che ci sta lì alla cassa questo bigliettino che ti dice il 17 serviamo i bomboloni caldi poi se fosse non so l'evento ma è una cosa che tu vai là e te li danno non paghi o è tipo con il caffè ti danno il bombolone caldi eh infatti costerà 5 euro non lo so ah ok la prossima volta che succede faccio altra pausa e vado solo alle 17 succede però alle 17 gli servono caldi sicuramente ah tu dici magari passi alle 18 e te li danno freddi ma d'altronde il cartellone diceva 17 ti presenti le 17 sono caldi altrimenti sono cazzi tuoi mi sembra mi senti malchesi sono persone qualenti però complesso sì sì iniziamo subito a bomba questa puntata subito sul pezzo stavo dicendo che insomma tutti sei messo no perpendicolare alla telecamera assaggiamente perché così è non nascondi le tue virtù invece mi sono messo parallelo e quindi no sì sì insomma notiamo Simone che si è invecchiato insomma che poi questa questa Est Radio ha preso un'ondata di gioventù sempre più gioventù chi questa Est Radio qui sul canale Twitch di Est c'è tanta gioventù c'è tanto infatti vabbè io anche quando avevo 16 anni facevo parte della gioventù quindi insomma è un problema è agghiacciante parlarne così però è una dura verità una dura verità ballano 10 anni di differenza è giusto si sentono ma io comunque mi sento si sente anche dalla mise en place con cui con cui ti presenti in diretta però posso dire me lo posso anche permettere Dario 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 per favore ma dico per favore sei un signore sei una cosa che ti rappresenta al 101% la parola signore dici che alcuni degli astanti di questa Est Radio potrebbero darmi del lei direttamente io ogni tanto sono tentato a darti del lei anzi dici dovrebbero darmi del lei sia un po' troppo informale questo tu tra me e Dario un po' di lei sarebbe ogni tanto più congruo diciamo più adatto alla situazione no ciao bella in realtà poi c'è un motivo per cui sei così elegante e così distinto che ha a che fare tra l'altro con la puntata di oggi assolutamente sì perché tu oggi non hai fatto un cazzo no a parte un cazzo che va bene però dico smart non ho fatto smart working non hai fatto smart working sì perché insomma avrete intuito dalle nostre pagine social che se non seguite molto male andate subito in realtà fate bene perché non l'abbiamo aggiornata per niente devo un attimo fare problemi tennici problemi tennici però se seguite la pagina di Estradio saprete che oggi parliamo di smart working sì diciamo che la nostra capacità a proposito del tennici che mi ricordi il tennis potrebbe essere paragonabile nostra capacità nel gestire i social a quella di gestire le istituzioni australiane dell'esimio Novak Djokovic stai facendo un riferimento tennistico rispetto alla questione che è schiacciata la questione tecnica che effettivamente è stata una questione della nostra mala gestione dei social hai paragonato la nostra alla gestione del caso Djokovic questo è un bel parallelo questo è un bel ma perché l'arario va saputo a fare va saputo a fare uno deve sapere unire i puntini il twitch magari non ci viene bene il twitch sono tanti puntini e tu non li devi sapere unire quindi noi parliamo di smart working o di telelavoro ah attenzione ero sicuro ero sicuro che mi avresti ritarguito ero sicuro che mi avresti per questo che te l'ho detto perché il telelavoro è una cosa ben differente dallo smart working ben differente insomma si parla di telelavoro è un inquadramento anche legale per cui devono essere rispettate tutta una serie di condizioni in cui il datore di lavoro abilita il lavoratore a lavorare a casa in una maniera congrua come se fosse in ufficio quindi diciamo con l'illuminazione in una certa maniera la sedia il tavolo lo schermo quindi diciamo è più fiscale è più categorico proprio l'inquadramento legale in cui il datore di lavoro è tenuto ad offrire un certo tipo di servizio mentre invece cosa che nello smart working o nel lavoro agile insomma per chiamarlo all'italiana bello di lavoro agile si anche perché secondo me è anche più più congruo diciamo a quello che è allo smart working però insomma diciamo che io volevo anche arrivare a come siamo arrivati a volerne parlare dello smart working no? ah beh dici l'ho gettato troppo così troppo facilmente tu intendi? no no l'hai gettato molto efficacemente me l'ha sembrata capito una cosa che funzionava continuiamo a gesticolare per chi non ci vede i puntini li abbiamo uniti molto molto bene però questo perché pensavo riflettevamo sull'impatto che ha questo questo lavoro agile insomma quindi diciamo è lì che nasce un pochino la nostra idea poi dopo siamo andati nel web a trovare giustificazione scopriamo che nel sustainability mag che è un magazine online che vi si vi piace la tematica della sostenibilità vi invito a seguire a leggere viene individuata la tematica del lavoro da casa come una dei dieci delle dieci tematiche più rilevanti dei trend di sostenibilità del 2021 quindi anno che abbiamo appena lasciato ok però insomma non è non è indifferente questo perché perché insomma il lavorare da casa costa inquinare meno ma anche costa un beneficio anche spesso per il lavoratore beneficio ma talvolta anche un non un maleficio non si può dire una magumba un malocchio che cosa però perché andiamo a vedere un attimino perché cioè allora faccio una posso fare un cappello introdotti posso fare una premessa faccio questa premessa vi premetto che nonostante noi tendiamo ad essere molto come dire analitici sulle cose nel senso che cerchiamo sempre di portarvi qualche dato qualche qualche analisi in questo caso non siamo riusciti a farlo perché perché trattandosi di un mondo di un qualcosa che è successa di un qualcosa che è successo che è successo infatti mi pare che sono strano di un qualcosa che è successo molto recentemente insomma il fenomeno dello smart working dal punto di vista globale come lo abbiamo lo stiamo sperimentando adesso è un qualcosa di molto recente e proprio perché è molto recente non abbiamo allo stato attuale dei dati che sono attendibili insomma perché è difficile quantificare a livello proprio empirico qual è per esempio la riduzione di CO2 dovuta dal non altro lavoro perdonami al lavoro agile al lavoro agile perché appunto come fai ad isolare quel fattore là rispetto magari al lockdown non so come dire quindi diventa diventa un po' un po' difficile abbiamo trovato solo dati che sono molto sommari e quindi abbiamo deciso di non portarveli quello che sembrerebbe invece essere comunque una sicurezza una garanzia è proprio il fatto che esista una riduzione dell'impatto dovuta al teletravaglio si che poi insomma teletravaglio però lo posso dire teletravaglio perché in francese i francesi dicono teletravaglio però ecco quello che vogliamo portare qui era più una riflessione che facevamo tra di noi insomma anche così a modi dibattito del chi è a favore e chi è contro qui mi sa che siamo entrambi abbastanza a favore però insomma vediamo chi delle criticità chi dei vantaggi insomma questo qui è in dubbio e quindi cercheremo di portarvi un pochino più su questi sentieri di quelli di quelle che sono le nostre riflessioni a riguardo allora dottor Bottaccini lei che è un esperto di teletravaglio in realtà purtroppo non sono un esperto di teletravaglio perché io non lavoro da casa io lavoro sempre in ufficio non ho mai l'occasione di lavorare fuori dall'ufficio esatto diciamo abbiamo qui due rappresentanti due rappresentanti totalmente diversi allora lei che è un partiamo non lo so dalla dimensione sociale ma vogliamo partire dal sociale cioè dal rapporto sociale ufficio rispetto versus rapporto sociale computer io partirei anche se no anche se vuoi da una riflessione su quello che ci quello che ci abilita a fare questa cosa se tu ci pensi adesso una cosa che noi diciamo non abbiamo sperimentato in toto te forse un pochino perché ti sei laureato a cavallo sotto covid sotto covid però tante volte insomma adesso ci sta la possibilità di seguire i corsi anche se tu sei in giro che ha un vantaggio veramente non non è indifferente insomma perché ti permette ad esempio se io avessi voluto non so seguivo i corsi qui a Milano però potevo essere a Parigi o al mare o a casa mia a Perugia sì certo e questo qui non è un vantaggio non è indifferente un mio amico da poco aveva dovuto subire un piccolo intervento era in ospedale ha fatto un esame dall'ospedale si era messo d'accordo poi con l'infermiere che durante l'esame andava lì a sistemare la flebo così e ha strappato un 30 di pena così 21 crediti risolti con una flebo aggiustata non ce posso credere hai capito? cioè ha puntato sulla dimensione emotiva del cambio della flebo e vedi questo smart working che poi può essere declinato appunto anche nell'ambito universitario da cui siamo appena usciti no? ma tu è un drago però io non ci avrei mai pensato no è un genere è stato un genere mazza bravo complimenti bell'idea e quindi mi piaceva partire da questo qui perché mi aveva mi aveva sbosso tutte queste riflessioni perché io eh beh certo ho finito gli studi pre-covid e invece ora io in realtà non ho avuto nessun tipo di beneficio dal dall'essere solo maleficio solo maleficio perché in realtà i corsi li avevo già tutti finiti quindi non non ho tratto nessun vantaggio dal 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 covid no assolutamente ho tratto solo in culate perché poi ho iniziato la sessione di laurea mia appunto era appena finita la prima la prima diciamo non ci siamo tutti imbriagati no per niente in nessun modo era appena finita la prima quarantena poi da lì in poi il lavoro era praticamente impossibile trovarlo insomma è una lottura di palle proprio senza pari però vabbè detto ciò non ho avuto modo di sperimentare la bellezza del del di seguire le lezioni da casa che però è qualcosa che esiste e continuerà secondo me ad esistere nel senso che tante persone poi si stanno rendendo conto che una volta che tu crei anche volendo un portafoglio diciamo di corsi anche proprio gli enti formatori diciamo però rendendo conto che una volta che tu crei un portafoglio di corsi quello è un qualcosa che tu puoi continuare a vendere non lo registri una volta e poi quella funziona così com'è e tu continui a venderlo così com'è e qui io comunque poi ci vedo tante criticità perché potenzialmente si possono svuotare tanti atenei perché magari oh eccole ora il non plus ultra non plus ultra dello smart worker lo smart worker per eccellenza il dottor Roveda saluti in camera Roveda saluti eccolo si vede la manina del dottor Roveda che appare che appare live è vero lui è ancora non totalmente dottore ma in smart lo fai te lo auguri ok ok allora qui insomma facciamo un piccolo riassuntino a Roveda che ci è venuto a trovare si aggiunge al nostro numeroso pubblico che sono tre divani in vuoti e stavamo parlando di smart working delle sue implicazioni sia sociali che ambientali insomma solamente che ci viene a mancare un pochino il dato ambientale qui ancora non siamo riusciti bene a quantificare non sono riusciti bene a quantificare qual è stato il risparmio ambientale noi a Naso ci arriviamo molto perché banalmente la gente non si sposta più verso le abitazioni Roveda dice che non è poco no no ma anche secondo noi non è poco insomma anche se uno pensa al risparmio che uno ha di riscaldamento negli uffici di energia aspetta stavamo sulla parte sociale fermati ferma un volano che è molto più importante di quell'ambientale che è molto più importante perché stavamo a dir mi ricordo della cosa che era un aspetto positivo era il fatto che potevamo avere accesso a corsi diciamo in differita e quindi in differita significa anche in diversi momenti della giornata quindi se io non posso seguire una lezione la mattina posso seguirmela la sera a pomeriggio insomma quando ho voglia quando posso e criticità in quanto magari un Ateneo non so penso a quello di Perugia potenzialmente magari si svuota a favore dell'Ateneo di Padova non so per dirne una ma soprattutto potenzialmente si viene un po' a perdere quella che è la dimensione sociale dell'università esatto e questo sarebbe un peccato enorme perché insomma non so chi ci ascolta che ancora va in università e non si gode i compagni di università mi dispiace per lui perché non avrebbe un roveda qua esattamente un ugolini di là esattamente noi tre ci siamo conosciuti per esempio all'università e questo qui sarebbe una grande perdita però insomma la capacità di associazione dell'umano comunque no sì cioè non verrà comunque a mancare per questo si troverebbero altri modi però insomma non lo so non sono sicuro perché poi questa è in fondo la criticità sociale diciamo la criticità numero uno dello smart working cioè stare tutto il giorno in ufficio cioè stare tutto il giorno a casa oh ma ti spacchi le palle prima di tutto ti spacchi le palle tutti i giorni tutti i giorni io lo posso testimoniare insomma mi venite vestito come un deficiente perché oggi finalmente sono andato hai approfittato a lavoro però ecco non confrontandomi più non so nemmeno più vestirmi a modo no scherzo io non mi vestito eh? io non mi vestito eh sono pigiami eh è ingrassato sono pigiami eh sì sì anche noi notavamo il nostro crescere nelle panze a me non vanno più le camicie ho rimasto solo tre camicie che mi vanno che se non ha tentato alla mia immagine è stata le camere messa così in perpendicolare proprio un'altra sì comunque ma Roveda vuole partecipare? ma si ma Roveda ma cammini verso cammini verso di qua venghi 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 Roveda sì 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 siamo là sì sì vediamo tutto però devi parlare vicino a uno dei due microfoni perché se no ti sentono poco ciao ragazzi ah ecco adesso sì che poi il dottor Roveda è una B2E di Astradio eh attenzione adesso è dietro le quinte lo vedete qua lo vedete qua ma in realtà è uno che frequenta spesso programmi di Astradio ah ah vedi come sale lo share con il Roveda vabbè tutte signorine è un casino è un casino è un casino la domanda qual è? dato che c'ha più parla parla del microfono dato che lo smart working ha più lati positivi dal punto di vista ambientale e lati più negativi dal punto di vista sociale è una cosa buona o è una cosa cattiva? eh ci arriviamo ci arriviamo alla fine dei conti bisogna trovare la soluzione cioè trovarsi nel mezzo e io insomma è il mio motto di vita cioè in medio stat virtus alla fine cioè perché la dimensione dello smart ti può abilitare a fare tante cose però ti lascia un po' da solo se vuoi quindi si perde la dimensione del team quindi bisogna cercare ad esempio di lavorare insieme alle altre persone a volte stabilendo dei punti di contatto no? a parte il fatto che ha detto team e mi stai sulle palle perché di squadra perché il team è una donna è una donna è una donna sì hai capito è una donna è una donna è una donna è una donna sì mi stai sulle palle perché è un team però è vero cioè nel senso andare a lavorare non è semplicemente andare cioè a produrre per qualcun altro significa anche no? di entrare in una dimensione sociale con delle persone che poi magari ti ci trovai pure di merda magari in alcuni casi il problema magari è che ti ci trovai di merda però che appunto cambia ufficio che ne so non lo so però nel senso c'è anche quello che è una dimensione che è totalmente esclusa nel momento in cui sì è questo che ci porta a dire alla fine che non c'è una risposta assoluta a questo problema beh oddio risposta assoluta secondo me abbastanza c'è cioè nel senso io con tutte le persone che parlo mi parlano tutti del fatto che fare troppo smart working diventa una merda sbrocchi ti impazzisci però è necessario ci deve essere è necessario è sì ci deve essere perché se no si creano problemi di agglomerazione cioè che ne so c'è lavoro soltanto a Milano tutti vivono a Milano per dire no c'è lavoro soltanto nei quattro poli abitativi in Italia e si creano problemi di agglomerazione nei confronti di pochi poli no no e con lo smart working invece questo qui puoi diciamo dilazionarlo distribuire in qualche modo quello sì quello è vero io adesso non è che voglio mettermi a fare i pompini alla mia azienda però essenzialmente la visione che hanno di voler distendere gli uffici lungo il territorio italiano secondo me è molto intelligente cioè perché ad esempio il presidente onorario ha 80 anni però è molto più avanti di tante altre persone dice perché una persona che abita a Palermo è felice a Palermo la famiglia Palermo deve venire a lavorare a Milano perché è un terrone di me no scusate ho sbagliato cioè no non era quello che volevi dire scusate no è più a nord comunque da Palermo se non l'altro comunque un saluto a Palermo a Palermo e comunque per non far morire la vocierea bisogna anche aprirsi a questo a questo genere di soluzioni la vocierea purtroppo morirà a causa dei tedeschi con i sandali questo però è un altro discorso che non ha a che fare con lo smart working ha a che fare con i tedesconi con i calzini di spugna la globalizzazione la globalizzazione la gentificazione tutte queste cose qua dobbiamo combattere con lo smart walking è che tutti i colleghi sono dalla vocceria di colleghi beh oddio sarebbe un'idea io ci pensavo adesso che arriva l'estate e ho detto io questo quasi venga ci affittiamo una casetta mi ha affitto la Milano e mi costa un sacco di soldi ma raga Palermo è una città fighissima mi ha affitto a casa mia a Milano a Malano a Malano magari qualcuno che venga a fare un master con a Malano in presenza e vado vado a lavorare non sarebbe male allora io ho un sacco di amici che adesso attualmente stanno tipo alle canare tutti le canare ma quanta gente ospita le canare ma quanti sono grosse queste canare ma adesso c'è tipo una popolazione di 20 milioni di abitanti adesso le canare ma non c'è anche una comunità perugina pensa te si si ma stanno tutte le canare non ho capito com'è possibile questa cosa ho capito ma tutti là ma non ci stanno le case per poter fare ma di che stiamo a discutere non lo so ma di che vedere comunque dai il smart working secondo me bella bella novità secondo me non parlavamo sì e no però ecco diciamo prima parlavamo anche io riflettevo anche su questa cosa parlavamo degli uffici ad esempio magari c'hai dei colleghi di merda con i quali non ti trovi con lo smart working hai la possibilità di condividere gli spazi lavorativi anche con delle persone che ti puoi scegliere te cioè nel senso lo smart working non necessariamente significa lavorare da casa perché dopo un po' uno può andare in sofferenza ad esempio io abito in 50 metri quadri dopo un po' mi sta sui coglioni lavorare a casa per questo che vado in ufficio però potrei venire qui e lavorare con te o no con te non puoi lavorare adesso con il smart working ma potrei lavorare con il signor roveda è una bellissima cosa quello che tu mi dici perché in realtà questo ci porta alla dimensione più più ecologica anche se ma anche sociale cioè vaffanculo collega testa di cazzo condivido il mio spazio lavorativo con qualcuno che scelgo ma condividere uno spazio lavorativo significa anche la presenza di uno spazio lavorativo che è per sua natura condiviso per sua natura non assegnato all'ufficio dell'azienda dal dettaglio o all'ente pubblico dal dettaglio o che ne so io che ma è questi open space questi open office questi chiamali come te pare che sono queste strutture dove sostanzialmente tu vai paghi magari un tot e hai un servizio che può essere magari pure comprensivo dei caffetti quello che ti pare no e questo a lungo andare è un qualcosa che ha che ha a che fare anche con la sostenibilità noi sappiamo che le nostre città è controverso tutto ciò perché anche stare più a casa ti costa certo cioè nel senso scaldare molti più ambienti illuminare molti più ambienti rispetto a uno ti costa di più certo anche vero però che una cosa è scaldare un ambiente di non lo so 50 metri quadri una cosa è scaldare un palazzone infinito per questo è controverso e per questo è anche difficile ottenere il dato di cui parlavamo questo cazzo è un dato maledetto e quello è un problema viviamo schiavi del dato queste puntate sono schiavi del dato eh esattamente se no di che stiamo a parlare e il discorso che perché noi siamo i re delle supercazzole però ogni tanto qualche dato qualche dato lo portiamo no ma la cosa interessante qual è che se ci pensiamo sostanzialmente le nostre città sono strutturate in funzione del fatto che uno deve andare a lavorare in un post e dormire in un altro di fatto se noi guardiamo tutte le periferie d'Italia di tutte le città d'Italia sono dei cazzo di dormitori perché tu vai là dormi la mattina dopo ti svegli vai a lavoro da qualche altra parte tendenzialmente centro città o polo industriale o che ne so io che vai a lavorare là poi torni indietro vai a casa ti mangi una cosa chi fai dormi e poi ricominci da capo quindi tutta l'urbanistica attuale ma non solo in Italia nel senso in generale nel mondo è tutta strutturata su questa cosa qua la città in 15 minuti sì esatto e questo qui potenzialmente è abilitante a tutte le nuove strutture nuove strutture sociali nuove strutture di città urbanistiche cioè comunque in potenza è una novità tra virgolette novità importante per la società per l'ambiente da un punto di vista proprio urbanissimo e quindi eventualmente anche di cementificazione tutto quel discorso la copertura del suolo esatto riorganizzazione del terreno pubblico insomma tutte cose tematiche che hanno a che fare con la sostenibilità magari in alcuni casi anche un po' in modo un po' tangente però hanno a che fare con la sostenibilità e che sono determinate anche dal il modo in cui tu lavori sì ma hanno a che fare con la socialità con l'economia con tante cose cioè anche se ci pensi ripensare tante strutture tanti modi di lavorare tanti modi di intendere il lavoro che vengono vengono totalmente stravolti dalle possibilità che passano appunto però assolutamente da strumenti abilitanti strumenti abilitanti che anche quelli comunque hanno un costo ambientale quindi ritorniamo sempre qui al tema come fare a ponderare bene le cose come fare a metterle bene sul piatto della bilancia perché comunque insomma ha un costo ambientale il computer la rete la rete internet comunque anche quello è un costo altissimo no? ci pensi? sì assolutamente sì anche secondo me rispetto a riscaldare un palazzo rispetto a riscaldare un palazzo intero cioè io ho appena cambiato azienda un'azienda in questi due anni ha venduto tipo la metà degli uffici perché ha detto tanti sono tutti ma come senza fare nomi ha costruito una torre eh no ha costruito quella e ha venduto tutto il resto la torre è vuota però è un simbolo e tutto il resto la ha tolta la gente è a casa costa meno riscaldarla perché riscaldano solo i piani che gli serve è un simbolo fallico la torre di potere assolutamente chi ha la torre più grande chi ha più torri quello è chi ha più torri quella è l'era dove hanno cioè più torri sul class torre unica ma che torre eh mica lo so eh perché comunque nello scalene spicca sempre una torre però regà poi c'è tutte le torri che ti pare ma se la tua non spicca anyway anche lui c'è ragione basta che non andiamo a scadere se tagli il boschetto la torre spicca di più eh certo dipende pure da dove la metti il salone perché se la metti isolata da qualche parte allora dice che torre la metti insieme a qualcuno dice beh in fondo non è manco così grande e comunque la civiltà mica è evoluta 1300 anni fa era così c'era più torri c'era la torre più alta medioevo uguale insomma e proprio perché secondo me siamo sempre siamo sempre umani secondo me alla fine lo smart working andrà bene in questi anni ma tra due o tre anni sarà una tragedia io prevedo una tragedia dopo il post covid saranno le persone che si ritrovano in ufficio e si scannano perché non ce la fanno più a lavorare Nicolò ha anche detto atti la flagella di Dio doppia teta il remoto è tragedia no io vedo sta roba qua infatti l'azienda per cui lavoro che ha torri torre e torrine ha fatto un anno di smart working cioè io tipo ho fregato un contratto in cui c'è un anno di prova in cui fai tre giorni di smart working e due in lavoro normale ed è una prova ma quello che dico io è che secondo me il moto deve essere naturale nel voler andare in ufficio e secondo me questo chi è molto più proficuo del moto imposto nell'andare in ufficio no ma infatti è figo però fa molta fiducia su come lavorano le persone perché cioè fare un cazzo a casa è molto più facile che fare un cazzo in ufficio secondo me eh si si ma infatti il problema comunque è quello di produrre se uno è più produttivo a casa si deve sentire libero di essere più produttivo a casa però non è cioè perché tu hai una mentalità giovane però ci sono cioè tu immagini ci sono persone che magari lavorano da 30 anni 40 anni e hanno detto si c'è lo smart working ah si sai che bello so in spiaggia con il computer faccio così sul così proprio così sul pad sono sempre online cioè parlavo ieri di questo di questo si ma infatti uno non è che lavora stand online parlavo in tante altre maniere no hai ragione però parlavo ieri di questo qua con un mio amico che secondo me è un genio poi l'hanno beccato poveretto lui durante tutta la pandemia è stato per chi utilizza Teams degli amici che si ascoltano lui è stato in call con se stesso per tipo tutta la pandemia ed era irraggiungibile da tutti ma sempre in chiamata un genio però poi l'hanno beccato lui ha fatto due anni a giocare alla play probabilmente idolo indiscusso però vabbè però ha capito questo qui è l'estremizzazione però se lui non voleva fare un cazzo riusciva a non fare un cazzo uguale perché uno non è che deve essere obbligato no hai ragione ad andare a lavorare non lo so comunque se io la vedo così secondo me c'ha più difetti che pregi alla fine cioè io ma ci sta ci sta qui siamo in riflessione sono contento secondo me c'ha più difetti che pregi arriva anche il boss il boss lo si va a vendere va a vendere vedi e lui lo smart working non lo fa però ho capito non è che no no lui fa smart working quando anche faccio smart working lavoriamo insieme a casa la mattina ah vedi est per lo smart working tu Enrico sei pro o contro lo smart Giulio è in dad la mattina è in dad sì diciamo pro però ritengo che il paron debba vedere il dipendente almeno una volta al giorno se no il dipendente si perde via ah qui vuoi controllarvi il Giulio non fa un cazzo il dipendente cazzo no ma dico è più importante vedere Giulio o vedere quello che Giulio produce no per dire parliamo di Giulio come il suo dipendente per il lavoro che facciamo noi perché qui Enrico è i dipendenti no per il lavoro che facciamo noi secondo me è fondamentale che io e lui ci si veda e si abbia tempo di quei momenti che una volta si diceva nei libri di marketing la macchinetta e il caffè cioè di stare un po' di tempo assieme no no questo siamo d'accordo e il rischio poi perché di non di tenere sempre quella relazione che è un po' diciamo un po' congelata in cui ti saluti e però non hai tempo di entrare nel flow di vita assieme rischia poi di togliere delle possibilità in termini creativi ecco quindi secondo me non è tanto una questione di controllo ma quanto proprio che la condivisione crea sinergia ci vuole anche un momento di viversi ma faccio una provocazione perché io sono totalmente d'accordo con te però vuoi che questa cosa sia spontanea o imposta io credo che sia un po' come l'equaterosa cioè l'equaterosa sono una cosa imposta ma che è fondamentale per rompere un'inerzia credo che sia importante e basta però si per dire poi dipende sempre dai lavori è più produttivo stando quelle due giornate via io credo che sia così io credo che quella sia un po' di un po' di di pigrizia perché poi tanti dicono ah che figata lo smart working e poi quanti dopo 6-7 mesi hanno detto non vedo l'ora di tornare all'ufficio perché comunque un po' e un po' secondo me ci sono dei lavori che magari un giorno in smart working come fanno a Roma il venerdì da marzo in poi è una figata però la vita in ufficio è importante per il lavoro stesso vabbè lo fanno anche qui a Milano sì però a Roma c'è un mood diverso vabbè vabbè a Roma puoi andare al mare puoi andare al mare in un'ora è proprio ostia di solito di solito il venerdì a Roma si sciopera si sciopera direttamente sciopero il venerdì è weekend lungo weekend lungo grazie Enrico questo intervento cominciò a fare mercoledì ma ti vai in smart working il mercoledì però stai in smart working poi magari dopo fai altro e quindi insomma in realtà mi pare di capire che siamo un po' tutti sulla stessa pagina rispetto a questa cosa nel senso vediamo tutti le possibilità di un beneficio anche perché chi è che non si è svegliato un giorno e dì ma baffanculo a me proprio non mi va oggi andando a lavorare preferirei troppo sta a casa a lavorare da casa nel senso che mi vesti anche perché magari quel giorno tutto il lavoro che dovrò fare sarà un lavoro sostanzialmente di computer che quindi è un lavoro che posso fare tranquillamente anche da casa insomma non è necessario che io vada in un posto e mi incontri con persone sostanzialmente così come tutti quanti abbiamo riscontato il fatto che dopo un tot di tempo diventi scemo sostanzialmente non ce la fai più ti manca quella dimensione umana del lavoro anche se magari con i tuoi i tuoi colleghi non è che sei il grande amicone però comunque sia quell'interazione sociale è un'interazione che serve lo possiamo dire lo possiamo dire quindi su questo siamo sicuramente allineati però per dire io oggi al lavoro sono andato per cambiare aria perché i colleghi c'erano tutti a Roma che facevano è giusto perché tu sei assunto a Roma in realtà eh sì con l'Ethere sono andato a Roma con l'Ethere eh però per esempio tu sei assunto a Roma e stai ecco di qua questo bellissimo posto che è Stradio ringraziamo Enrico e Zaki lui è assunto a Roma per la Marlboro se è andato a Philip Morris eh e cazzo non c'è mai andato a Roma risanando ora perché ricordiamo a tutti che il 31 marzo 2022 finisce lo stato di emergenza dai dai esatto a Monte e vediamo un po' che altra emergenza arriva se si fa la Philip Morris sta pure dalle parti mie tra le altre cose sì perché sta Torino Nord Torino dai a Torino dai a Torino dai a Torino ma che cazzo ma che ne so ma sì ma poi noi parliamo oggi riflettevo riparliamo di sostenibilità facciamo dispacciamo qui siamo alle porte di una guerra ma il costo ambientale di una guerra qual è qual è è enorme enorme poi pensare di ma sì ma ambientale sociale costo di sostenibilità che sostenibilità ricordiamo sempre con poste economiche cazzo e mazzi sono tutti ai balli si hanno fatto una testa ma perché è importante è un concetto importante no perché sostenibilità è una parola abusata no quasi e quanto implementazione quante volte hai sentito implementazione negli ultimi anni un po' meno non implementi più te madonna quanto si implementa mamma mia ti implementi ha deciso di non dice no guarda io e quindi Ugo fa te per favore io guarda da un po' che sto ripensato su sta questione se lo fai se lo implementi te io ti seguo ti seguo tutto il più ma sì infatti io dovrei chiamare dovremmo chiamare ma non lo so se si farà comunque dico cioè si gioca tutto su altri tavoli cioè bisogna ogni tanto fare questo esame di coscienza essere un po' cinici mandiamo Greta in Ucraina tipo eh sì Greta in Ucraina dura quanto il gatto è un tangenziale con tutto il bene va lì a fare il suo climate strike school for track and change esatto for climate change allora dai è un mondo di merda io qui è difficile tirare le fila di tutto ciò è un mondo di merda è un mondo di merda le file sono che in realtà non ci sono file allo stato attuale è tutto un divenire che quindi sarà da vedere come si evolverà sicuramente è un qualcosa che farà parte della nostra vita lavorativa questo sicuramente è anche meno male però abilita nuovi scenari abilita nuovi scenari è un buon lascito di questa pandemia è un buon lascito sicuramente ci saranno molti più nomadi digitali nel senso ci saranno molte più persone che saranno completamente in digitale secondo me nomadi digitali che sono dipendenti perché nomadi digitali sì certo sì sono sempre stati freelance freelance cose di questo tipo invece adesso probabilmente diventano proprio assunti perché magari uno dice cazzo voglio fare dipendente perché posso andare lavorando e cazzo mi pare prima non era prima non era così secondo me quella è tanta roba però io la vedo un po' come Enrico cioè parlavo con questo padre il nostro amico che dirigeva un'azienda e mi diceva la roba peggiore dopo il covid è lo smart working perché a meno che tu non debba fare inserimento dati che puoi stare da solo a casa che ti mando il file fai quello quindi robe molto meccaniche che tra l'altro sono probabilmente i lavori che verranno surclassati nel futuro da intelligenze macchine eccetera se devi fare un lavoro manageriale creativo e di scambio lo smart working è difficilissimo non puoi relazionarti attraverso uno schermo io sono migliorato tantissimo anche a parlare in modo più semplice a gesticolare meno con lo smart working sì sì assolutamente impari a relazionarti in modo diverso in modo più semplice in 15 minuti in cui ti relazioni con una persona mezz'ora di solito mentre invece prima era uno scambio cioè io sono seduto qui tu sei seduto lì e che cazzo ne so ti mando una canzone cioè non lo so dico che figliata nel senso non hai imparato a relazionarti meglio socialmente in generale hai imparato a relazionarti meglio socialmente nella funzione dello smart working in quel senso là ah ok certo certo però non è vero tutto sto vantaggio beh però sì comunque è una skill sociale in più che hai sì 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 ha voglia voglia è figlia del nostro tempo secondo me infatti bisogna trovare il giusto equilibrio in questo perché anche io io sono molto però vedo tanti difetti e vorrei avere molta più relazione sociale vedo che questa qui è una criticità sicuramente perché si può raggiungere di più però quando è imposta a volte diventa controproducente eh lo so però purtroppo secondo me no no non c'è una regola che vale per tutti ho detto tu prima cioè proprio il medio stat virtus cioè bisogna trovare il medio secondo me il medio non si trova in due anni di pandemia dove si trova qua imposta ma sarà una cosa molto beh comunque fidatevi di chi ha la giacca sedite in medio stat virtus nella maggior parte delle discussioni che tenete funziona avete ragione voi può essere pure che scopate non è detto non è detto ma può essere pure che scopate per esperienza diretta vi dico di no se ve la giocate bene nel contesto giusto magari pure una scopata ci rimediate allora vai io volevo chiudere con la carrellata delle altre dieci cose importanti secondo questa sustainability mag di questi temi di sostenibilità molto importanti quindi vai partiamo dalla numero dieci che è il business condotto dalle donne quaterosa esatto e qui insomma abbiamo già toccato poi il waste free cercare di inquinare di meno poi abbiamo i veicoli elettrici che io personalmente detesto eh ma qui sono sempre tematiche da affrontare ma che abbiamo anche a volte già affrontato a fare una puntata ad hoc in cui vi invitate perché io sono la persona più contro i veicoli elettrici che io ti piace probabilmente live cycle emission altissimo eh dai altissimo anche io allo stato attuale è una bella cazzata no l'abbiamo parlato abbiamo parlato dell'auto elettrica abbiamo constatato che è una stronzata allo stato attuale sembrerebbe sì nel senso allora c'è da dire che vabbè questo è un altro ragionamento è un'altra puntata comunque è una puntata per ogni per ogni argomento sì in realtà solite che alcuni topic li abbiamo toccati e non toccati perché erano molto spinosi parlo soprattutto nel primo che ho citato che al tempo lo toccammo parlando anche dei movimenti femministi però mi devi ricordare che ora era l'equo de rosa ah ok sì perché abbiamo sempre scopato poco nella vita quindi abbiamo un studente avvelenato contro le donne quindi capito abbiamo un studente avvelenato perché almeno io lavoro di più strozza ma dai almeno faccio così un altro trend importante da tenere d'occhio è la compulsory climate action che non so come tra l'altro questa azione climatica compulsiva che no compulsory vuol dire obbligatoria obbligatoria ma ok che non so che cazzo vuol dire quella cosa però secondo me ti senti che devi fare parte ah devi fare parte comunque io sto facendo questa carrellata per cercare di fare anche un po' di reaction no se qualcuno di voi è incuriosito di queste tematiche andate a cercare da qualche altra parte perché non abbiamo la ventimilima idea di come spiegarvi però magari se vi interessa ce lo possiamo lo possiamo spiegare sì esattamente questo dicevo se interessa poi in caso ne possiamo parlare ah no certo sì se volete assolutamente approfondiamo da parte vostra poi c'è stata c'è quella che abbiamo appena citato che è il lavorare da casa quindi lo smart working c'è una figa no c'è uno vestito ah è vero è vero hai pantaloni hai pantaloni non è vero non è vero pantaloncino tuta come giusto che sia come la nostra immagine che abbiamo palle all'aria mai ma palle all'aria sei audace palle all'aria odace metti in caso che te alzi cioè fai la figura proprio è proprio eh sì sì rischi rischi business là sei proprio sei audace là è da premio nobel poi scadiamo nel banale abbiamo il sustainable sources food ma chi ci vuole il bitelli ci vuole il bitelli dici il bitelli è un nostro this is juice è un nostro competitor che abbiamo avviato anche noi collega 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 sinergia ma bene sinergia ma il bitelli già l'avevamo invitato l'avevamo invitato all'epoca quando lo stavamo quando lo stavamo alla statale quando eravamo in radio statale perché siamo vecchi anche nel fare la radio ormai siamo solo vecchi siamo vecchi no però mi ha fatto piacere che mi ha detto che ho idee giovani chi ti ha detto ma quando ti ha detto ho appena detto adesso perché te sei giovane hai idee giovani ma ti prendeva per il culo però Dario non era ah non hai colto mi dispiace noi abbiamo abbiamo colleghi qui su questa est radio che finiscono in liceo quindi insomma vabbè quindi diciamo cibo sono loro che sono dei feti non siamo noi che siamo vecchi quindi sono saggio un savio e oh ma sti dieci eh finisci da fare cibo sostenibile ebbè ridagli ESG ESG che so ESG ESG parliamo di finanza principalmente ah i boni i green bond no non di green bonds però si parla di compliance quindi di essere eh appunto di seguire le regole che richiamano questo ESG che sarebbe environment social and governance che sono poi anche le tre dimensioni della sostenibilità poi parliamo di moda sostenibile di aria pulita e di energia rinnovabile no finita sta carrellata la sostenibile è tanta roba abbiamo già parlato abbiamo già parlato aria pulita quindi o ce lo chiedete o vi andate a ascoltare le puntate vecchie in realtà pure pure di aria pulita ne abbiamo già parlato un sacco di cose ci manca di parlare della tassonomia però spiegarla a tutti du coglioni sulla tassonomia cioè eh capito cioè è una siga solo spiegatelo cioè te sono già cascate le palle non ti sei manco accorto capito sulla tassonomia la voglio ascoltare l'hai registrata che hai fatto fa un podcast nel 2022 si faranno i podcast a posto delle tesi poi puoi copiare anche il discorso bellissimo bello ah ma mentre parli che se lo scrive il word ah che tu magari cammini filosofeggi per la stanza e la cosa ti scrive lo detti vabbè ragazzi dopo sta cazzata direi che è arrivato il momento di andarcene a bere una birra e a mangiarci una torta al testo eventualmente che poi c'è stato c'è stato San Valentino ieri e dobbiamo ricordare una cosa che San Valentino è il padrono di Terni e quindi e quindi merda e quindi Terni merda se su Terni merda mi sembra una chiusura veramente orgogliosa non saprei come chiuderla diversamente su Terni merda mi sembra e se tu ci stai ascoltando su Terni smettile di ascoltarci perché siamo a me no grazie grazie saluto ciao si da Terni si da Terni si da Terni no e vabbè allora i Ternani no San Valentino non ci frega niente e quindi Terni merda direi che possiamo chiudere ciao a tutti ciao grazie Nico ciao anche grazie Nico